ci fermiamo 5 minuti eh se la facciamo pari no gioca inizia il vincerla si metto il mare avanti pari io vieni sono se si tolta il volo a volte, non è fluibile no, no, è bravo troppo una volta così tolta dai, dai, dai un'altra sforza ecco, vediamo che insultano i giocatori un'intervista al nostro Alberto come ti senti Alberto? una dichiarazione Alberto